Ci troviamo a San Calogero, proprio a pochi metri dalla Basilica. Siamo con padre Giuseppe Cututino e con Santo Proietto, che è un fedele di San Calogero. Abbiamo trovato una situazione veramente difficile, tanta sporcizia, addirittura anche alle nostre spalle, come vi mostrano le immagini, un albero che è caduto, evidentemente anche qui i segni del maltempo e del forte vento dei giorni scorsi. Però c'è una situazione generale di abbandono, una scarsissima illuminazione ci è stato riferito da padre Cututino. La domenica del Carnevale arriveranno in questa zona diversi gruppi per assistere alla festa e per visitare la Basilica. Padre Cututino, lei ha già ricevuto molte telefonate ed è un po' preoccupato. Sì, io sono preoccupato perché con tutta la buona volontà di dare ospitalità ai gruppi che vengono non solo per la messa ma anche per restare un po' in silenzio, divertirsi prima di andare a vedere il Carnevale, consumare il pranzo magari a sacco. Io certamente posso mettere a disposizione qualcosa, l'oratorio, ma non tutti i gruppi li posso ospitare, così non posso dare la possibilità a tutti i gruppi di usare un servizio igienico, anche perché qui come vediamo non ce ne sono. Quindi un servizio igienico della Basilica non è sufficiente per 200, 150, 250 persone. Quindi quello che per me è un po' preoccupante, come dicevi, è che ospitalità diamo a chi viene da fuori, che segno di presenza diamo, non come frati o cristiani, ma come assistenza sociale, perché qui in Basilica in effetti in questa zona non c'è nessun servizio igienico, oltre alla mancata illuminazione che tu hai accennato. Lei ha segnalato questi fatti anche al Comune? Sì, qualche volta ho segnalato ma ancora non abbiamo avuto nessuna risposta, così come mi pare che è stato ripreso lì una zona pericolosa per i bambini, che mancano le protezioni di sicurezza. Io ho messo un po' in sicurezza quella zona, mi ha aiutato pure uno dei vigili del fuoco, Tony, Tony la porta, però ci vuole una maggiore presenza. Io dico soltanto che questo luogo è bello, bellissimo, una maggiore attenzione sarebbe un fiore all'occhiello, basta così. Santo Progetto, c'è un appello anche da parte dei fedeli? Assolutamente sì. A San Gallo c'è un degrado, c'è un'emergenza perché come hai segnalato poco fa tu, che fa patutino, mi ha chiesto una domenica santo, ma come dobbiamo fare? Patutino, ora lo segnalo. L'assessore, prima aveva Mantracchi, l'assessore Mantracchi, devo dire, mi rispondeva sempre e veniva, con ritardo, ma lo faceva Patracchi, ora qua nessuno, cioè io mi provocco perché Patutino è solo qua, cioè l'illuminazione ha detto bene tu, scarsissimo, qua c'è un degrado, completamente sporca, un posto più bello come ha detto Patutino di Sciacca, trovarlo così abbandonato mi fa, mi sento male pure io a vedere Sciacca, che sono cresciuto in questa zona. L'assessore Brunetto non c'è, mi dice sempre ora veniamo, ma quando? Quando c'è scarpa è morto un bambino, non esiste questo, guarda Brunetto, te lo dico qua, te l'ho detto 20 giorni fa, deve venire e basta.